Sabato di mercato in città con la raccolta delle firme sui sei referendum abrogativi promossi dalla Lega Nord. L'iniziativa è di Forza Italia che ne sostiene la cancellazione di due in particolari. La Lega Nord propone allora Forza Italia aderisce ma non per la totalità della proposta. Sì, Silvio Berlusconi e Forza Italia in maniera ufficiale hanno aderito a due dei sei referendum proposti a Lega Nord e in particolare il referendum che vuole l'abolizione della legge Fornero voluta dal governo Monti, la legge che ha prolungato in maniera assurda l'età pensionabile fino a 67 anni, giù di lì. Quindi noi chiediamo con Forza Italia, vogliamo abolire questa legge, stiamo contribuendo in maniera determinante a raccogliere le firme per questo referendum abrogativo. L'altro referendum abrogativo a cui Forza Italia ha aderito riguarda la reintroduzione del reato di clandestinità. Essere clandestino è reato secondo noi, invece il governo Renzi ha recentemente ad aprile di quest'anno abolito il reato di clandestinità e noi vogliamo reintroduirlo e per questo raccogliamo le firme. Andiamo con ordine, legge Fornero sulle pensioni, vediamo questo referendum un po' più da vicino. La legge Fornero ha portato uno sconquasto nel nostro sistema pensionistico, soprattutto in un momento di grande crisi, per cui per allinearci alle condizioni europee è stata introdotta una norma che ha penalizzato fortemente i lavoratori e il sistema economico. Lavoratori che vanno in pensione ad età molto avanzata, giovani che quindi non hanno la possibilità di essere introdotti nel mondo del lavoro perché non si liberano posti. Sicuramente non è stato voluto fare un intervento diverso che riguardasse situazioni di diritti acquisiti e quindi è stato per l'ennesima volta scaricato sulle generazioni successive una difficoltà e il costo di scelerate scelte delle annate precedenti. Avanti con l'immigrazione clandestina. Adesso non è più reato, si punta a ripristinarlo. Questo è un altro tema molto caldo, molto difficile. Ricordiamoci che abbiamo in Italia comunque migliaia e migliaia di immigrati già regolarizzati. Reintrodurre il reato di immigrazione clandestina serve a tutelare anche loro che sono ormai diventati regolari e sono stati assorbiti nel sistema laddove il problema del continuo flusso di immigrati continua a creare grosse difficoltà e scarica praticamente sui paesi frontalieri, Mediterranei e l'Italia in primis un problema sociale che va risolto in loco e non trasferendo situazioni critiche in ambiti che non hanno più la possibilità di accettare questi tipi di difficoltà e di gestirle in maniera dignitosa e onorevole. Secondo la legge, lei neoconsigliere comunale di Forza Italia autentica le firme di quanti sottoscrivono la proposta referendaria. Un primo atto ufficiale in attesa di impegni più consistenti. Sì, il primo atto ufficiale, lo faccio volentieri, è già un primo contatto con i cittadini di questa città l'atto successivo sarà la partecipazione al primo consiglio comunale dove mi auguro, sia nel primo che in quelli successivi, di poter comunque portare un contributo costruttivo rappresentando quei tanti cittadini che comunque non hanno votato l'attuale maggioranza e possibilmente recuperare la fiducia anche di coloro che hanno deciso di non votare affatto e che quindi hanno in qualche modo testimoniato una scontentezza verso un sistema che in questo momento non li sta aiutando. È un dovere dell'amministrazione, non solo, ma dell'opposizione e comunque di tutte le forze politiche di dare risposte, risposte a esigenze, a necessità veramente crescenti della popolazione e del territorio. Sei referendum abrogativi, due di questi sostenuti da Forza Italia. Buona sintonia allora con la proposta della Lega Nord. Ma sì, con la Lega Nord è sempre stato, sono vent'anni che c'è un accordo e quindi andiamo avanti in questo senso assolutamente. Tanto è vero che noi oggi qui in piazza raccogliamo le firme anche per gli altri quattro referendum, proprio perché chi vuole diamo la possibilità di firmare tutti e quindi è un discorso di sinergia complessiva, certamente, che deve riprendere a livello nazionale. Per la cronaca, gli altri quattro referendum abrogativi riguardano temi non meno importanti. Abolizione delle prefetture, legge Mancino sui reati di opinione, legge Merlin per togliere la prostituzione dalle strade, concorsi pubblici per immigrati.